L'ultima regata a cui ho partecipato è stata Lavandy Globe, una regata in solitario senza scalo e senza assistenza tecnica. Un giù del mondo che per me è durato 80 giorni. È chiamata l'Everest della Vela, era il mio sogno e sono stato molto felice di classificarmi ottavo. Dopo quando si torna a terra si apprezzano tutte quelle che sono le comodità della vita quotidiana e poi chiaramente si ha voglia anche di andare a trovare gli amici. Uno dei mezzi di locomozione che preferisco è il treno, innanzitutto per il suo aspetto green e per l'ecologia che in questo momento rappresenta e se non altro anche perché mi permette di leggere, mi permette di fare amicizia con altre persone. Lo trovo un mezzo comodo, pratico, veloce e quindi credo molto adatto ai tempi moderni e in accordo con la vita delle generazioni future.